Grazie a tutti. Io ho perso Marcello, qui il riparto da bambini è diventato grande, sempre di più, perché grande era, ora è diventato grandissimo. Sono qua, sono qua, sono qua, sono arrivato. E diventa così grande, è assorbito che io perdo, perdo lui. Abbiamo ingrandito il riparto da bambino, se lo sei ricordato. No, è che non ti trovavo qui, non ti trovavo. Un riparto da bambino ancora più grande, troverete il bambino da calzatura, quindi venite in occasione purtroppo per i bambini dell'apertura delle scuole, perché troverete un assortimento sterminato anche di calzature da bambino, chiaramente femmina e maschio, di numeri più piccoli fino a numeri da ragazzo più grandi. E dei prezzi veramente bomba, con delle offerte speciali di risparmio. Qui siamo nel reparto dei ragazzi, delle tennis, guardate quante Nike che sono arrivate. Sono solo alcuni modelli che altri li abbiamo in altri reparti, i primi arrivi della Nike. Guarda anche quanti tipi di suole, di leggeri. L'assortimento di numeri, sì, è importante dire che di molti modelli, tanti ne abbiamo già venduti, ma abbiamo i numeri grandi come il numero 15, che sarebbe un 50, che sono numeri che si trovano poche volte. Ma ti immagini di là, ci sono le signore che hanno il 35, il 36, dicono il 50. Cioè, immagini ora, diranno tutti. Abbiamo il 45 da donna, abbiamo il 45 da donna, non possiamo avere il 50 da uomo. Quindi, è normale. Converse, modello classico. Coloratissimi. I nuovi arrivi, i primi nuovi arrivi di questa linea all'inglese, underground e simili. Guardate, uomo, ragazza, donna e ragazzo. Poi abbiamo chiaramente la Caterpillar. Ah, bella, anche questi qui della Diadora. Il Dr. Martens, l'Humberjack, ne abbiamo veramente tante. Abbiamo la linea vintage della Diadora, questi sono i primi modelli arrivati, tanti altri ne devono arrivare. Oh, bella anche questa qui. Sì, un running. Ma te ti senti già vecchiotto per queste o te le metteresti ancora? È un po' vecchiotto solo, però, proverò a prenderle. Queste sono belle. Proverò a prenderle, se mi durano, perché stanno, si stanno vendendo molto bene, perché hanno un'estetica piacevole. Piacciono tanto. E il prezzo del bottegone della calzatura. Il prezzo del bottegone. Ad esempio, ancora Nike, guardate, anche modelli più classici, che ne so, modelli con i quali i nostri clienti si servono per andarci al lavoro. Anche dei lavori pesanti. Non ci dimentichiamo chiaramente di chi ha le esigenze di portare le scarpe per lavoro, per tutti i giorni, non solo per moda. È vero. Abbiamo un po' tutto. Vedete, abbiamo la Sonno Force che va bene per i ragazzi, per fare moda. Abbiamo la Max Trax, uguale per la moda, eccetera. Abbiamo poi delle scarpe, chiaramente idonee e a un prezzo molto più basso per lavorarci, magari non pensare che, ah, tanto le sciupo costano tanto. No. Qui trovate di tutto, anche le cose per risparmiare, le grandi marche e anche le grandi occasioni. Veramente i nostri reparti occasioni sempre molto assortiti, li troverete sempre, come no, al bottegone della calzatura, sempre assortiti nei reparti di grande risparmio. In questo caso vi vogliamo far vedere anche cosa. Tutto il nostro reparto da trekking, da caccia, il reparto giusto per i fungaioli. Fungaioli, cacciatori. Per chi ama il tempo libero, vivere nella natura. Vivere nel bosco, vivere nella natura, camminare, qui ci sono da tutti i tipi di suole, appunto Vivram, ci sono delle suole più leggere, ecco, appunto, a seconda anche dell'esigenza, a seconda anche di quanto uno vuole spendere, ma tante volte anche l'esigenza è importante per scegliere queste scarpe. Abbiamo delle scarpe da trekking semplici, leggere, a un prezzo veramente basso, fino a delle scarpe più sofisticate con delle caratteristiche particolari, come la garanzia all'idrorepellenza, oppure la suola Vibram, che è una delle migliori suole che ci sia in commercio. Abbiamo veramente tutto quello che può necessitare per questa fascia di clientela che cerca un prodotto da bosco, da caccia, da trekking, eccetera. Siamo leader nella vendita, nell'assortimento di Grisport, non solo in questo caso, come vedete, le scarpe da trekking o antinfortunistiche, ma anche nelle scarpe civili. Abbiamo veramente un assortimento eccezionale. Abbiamo anche, in questo caso, le scarpe da gran lavoratore, robuste e iperprotettive, che chiaramente costano qualcosa in più. Suole studiate, appunto, per starci in piedi tutto il giorno. Ma abbiamo anche delle scarpe più semplici, sempre delle Grisport, sempre di grande marca, per calzare tutti i giorni per un lavoro molto meno pesante e per il tempo libero. Lo sai che cos'è che noi abbiamo? Il tempo per far vedere altre cose. E non abbiamo i prezzi alti. I prezzi alti, è vero. Quindi venite al bottegone se volete, l'assortimento e i prezzi bassi. Chi vuole i prezzi alti e non trovare niente, non venite. No, no, non venite. Qui c'è assortimento e prezzi bassi. Siamo aperti tutte le domeniche di settembre, il pomeriggio, dalle 16 alle 20. Ciao.